Ed è un po' la testa Benvenuti sulla pietra di Bismantala Faremo una super gara A base di rotolini Rotolini Due contro due Prima coppia Poi seconda coppia Ehi Siamo pronti 3 2 1 GO Attenzione C'è molta parità sull'asse Ora i dobelli allungano No aspetta Attenzione ai muratti Come succede Allora win Guarda che io ho preso una mina con la spalla adesso Eeeh no ora Rotto la spalla in mezzo 3 2 3 2 1 Ah 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 Ciao Che carino Ah 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 No Ah 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 io l'ho imparata adesso l'altra, l'altra, quella e casa mia sembrava quasi un parlamene dai, metti questi qui a casa vuoi un sasso di riserva? no, 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 no perché tiro le rocce 99 cimbi, è sotto a quello sull'entro abbiamo una pagina su questa siamo stucco club presentatevi siete stucco club no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no 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 pra sei così sei così no 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 Grazie!